We're lost and gone in the night Native sun! Cari ascoltatori, bentornati a Figli della Patria. Oggi la pausa è stata... Mmm, ci vuoleva proprio. Scommento che è venuta a voglia anche a voi, vero? Ah, Nancy, mi chiede di ricordarvi che la pasticceria accetta ancora ordinazioni di torte magnuma per l'imminente martedì grasso. Dite che vi mandaremi e acquistando due torte ne avrete un'altra gratis. È un'offerta che non potete rifiutare, quindi fatevi sotto. Lo so, lo so, non dovrei bere caffè in diretta. Gilbert è diventato tutto rosso. Eh, ma ogni tanto ci vuole un po' di svago, cari ascoltatori. Ed è proprio quello che ci aspettiamo dal martedì grasso. Un po' di caro vecchio divertimento in stile... New Bordeaux! Scusate l'entusiasmo, ma non posso farci nulla. Io ho già detto quanto si è onorato di sfruttare della Corte dei Cavalieri per il decimo anno consecutivo. Gli abbiamo preparato un caro categorico incredibile senza badare a spese. Vorrei... Beh, questa sarà la mia prima corte dopo la morte di mio padre lo scorso anno. Gli ascoltatori, e sapete quanto il martedì grasso fosse importante per lui? Che riposi in pace. Era uno dei fondatori della Corte dei Cavalieri e ne è stato capitano per tantissimi anni. Forse gli ascoltatori più avanti con gli anni ricorderanno che nel 32 aveva interpretato il re. Beh, in quell'occasione era stato settimane, anzi mesi a prepararsi. Quello che più apprezzava, oltre alla tradizione, era sapere di far parte di qualcosa in questa città che tanto amava. Mio padre era convinto che ogni uomo... 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 Sono Lincoln Clay. Proprio così? Non ci credo. Comportati bene là dentro o saranno dolori. Hai capito? Parcheggia sul lato. Lincoln Clay! Cristo, ma guardati! Scommetto che quei musigalli si cacavano addosso quando ti vedevano arrivare. Quanto tempo, Giorgi. Ah, ne è passato un casino. Credo che l'ultima volta che ti ho visto fosse quella notte nel distretto francese, prima che partissi. Diamine, ci siamo divertiti. Oh, ricordo che io e Ellie si scappavamo dai piedi piatti e che Danny finì in cella con la sbornia. Eh, gli ho pagato la cauzione. E poi ne è valsa la pena per pestare a sangue quegli stronzi bianchi. Fumi? Certo. Ragazzi. Sammy dice che il signor Marcano vuole vedermi. Signor Marcano? Merda! Lo fai sembrare un dannato avvocato. Puoi chiamarlo Sal. Andiamo, è sul retro. Avrei dovuto vestirmi meglio. Ah, se uno di questi sfigati ha un problema con i tuoi vestiti, possono parlarne col mio vecchio. Gli dirà di baciargli il culo. Ecco a che serve avere così tanti soldi. Remy, è sempre un piacere. Olivia, mi spiace interromperti. C'è qualcuno che devo vedere. Altri due bicchieri. Lincoln. E' bello rivederti. Questo è Vito Scaletta. E' la persona di cui ti ho parlato. Tu Lincoln, siedi. Sei stato in Vietnam, eh? Sì, signore. Sal dice che ti sei guadagnato qualche medaglia. Mi trovavo con dei brevi soldati. Non avrei combinato niente senza di loro. Esercito? Marines? Esercito all'inizio. Poi sono stato reclutato dal quinto SFG. Forza speciali. Te l'avevo detto che era speciale. Non che la situazione debba precipitare, ma se succede, cazzo, non vuoi un uomo del genere dalla tua parte? Beh, se garantisci tu per lui, sal a me, basta e avanza. Senti, devo occuparmi di un paio di cose. Grazie per il drink. Cristo. Che stronzo che è quello. Fottuto opportunista. La commissione l'ha mandato qua giù da Empire Bay circa 15 anni fa. È stato un palo nel culo da quando è arrivato. Immagino che ti stia chiedendo di cosa si tratti. Già, Sammy non mi ha detto molto. Due volte all'anno i federali tolgono dalla circolazione i vecchi soldi e li distruggono. Nel corso dei prossimi giorni quei soldi verranno consegnati alla Federal Reserve qui in città. E voi attaccherete una delle spedizioni? No, no, signore. Sfrutteremo l'occasione per accedere al loro cavù. Per poi rubare tutto quello che troviamo. Ci saranno sei, sette milioni là dentro. Facile. È piuttosto audace come piano. È l'occasione della vita, cazzo. Ecco cos'è. Vito copre gran parte dei costi di questo lavoro e ci ha procurato la combinazione del cavù. Hai già rivisto, Danny? No, non ancora. Eh, lo farai. Abbiamo tirato dentro anche lui e il suo vecchio e gli servirà il tuo aiuto. Vai a trovarli. Non hanno cambiato casa. Dobbiamo parlare anche di un'altra cosa. Immagino che tu sappia dei problemi che ha Sammy in questo periodo. Ho già pensato agli Haitiani. Quando si calmeranno le acque i soldi ricominceranno a idrare. Ecco, è questa cosa qui, è questo che mi piace. Non sei rimasto con le mani in mano. Hai visto che c'era un problema e sei andato a occupartene. Porca puttana, preferisco un atteggiamento simile ai soldi. In ogni caso, facciamo il nostro dovere. L'abbiamo sempre fatto. Diavolo, figliolo, lo so. Non mi aspetterei niente altro. Ma sai, anche quando saremmo a posto, tu ti ritroverai ancora bighellonare nel buco del culo della città. Non mi sembra un grande futuro. Ma forse c'è un altro modo per crescere, mi spiega? Per tutti noi. Che cos'ha in mente? Sappi che non voglio offendere nessuno dicendo questo. Sammy è un grande uomo, ma non diventa certo più giovane. E sto pensando che sia il momento di cambiare. Ma non credo che Alice sia pronta per questo tipo di... Non sto parlando di Alice. Sto parlando di te. Voglio che sia tu a gestire Lolo. Non posso farlo. Ehi, ascolta, se ti preoccupi per Sammy, non devi farlo. Capisci? È sempre stato in buona fede con me. E con il lavoro di cui stiamo parlando, ricaverà abbastanza da poter andare in pensione. Mi ha accolto quando non avevo un posto dove andare. Mi ha trattato come un figlio. Mi scusi, signor Marcano, ma non posso fargli questo. Merda, figliolo. Mentirei se ti dicessi che non sono deluso neanche un po'. Ma ti capisco. Sei leale. Che è una cosa molto rara di questi tempi. Volete ancora che vi aiuti quella faccenda di cui parlavamo? Certo che sì, cazzo! E alla fine di tutto quanto sarete tutti più che impari con me. Alla mia parola. Che cosa volete sentire? Che rapivamo e torturavamo chiunque fosse sospettato di lavorare con i Viet Cong? Sto cercando di appurare il livello di addestramento che Lingon Clay ricevette durante la sua permanenza in Vietnam. Non c'è bisogno di addestrare uno del genere. Lo punti nella direzione giusta e poi ti levi dalle palle.